È molto carino qui. Mi piace molto la musica che mettono. Bob Ellis ha la batteria. Faccio parte dell'orchestra dello Schaeffer. Si tratta dell'orchestra migliore del paese. Il segreto è rilassarsi, non preoccuparti dei numeri, non pensare all'opinione degli altri. Sei qui per una ragione. Divertiti. Cinco, sei e... Io voglio essere un grande. E non lo sei. Abbiamo Buddy Reeves qui. Ora è sbagliato. Rallenta. Di nuovo. Cinco, sei e... Eri veloce o rilento? Io non lo so. Se ti permetti di sabotare il mio lavoro, io ti sgozzo come un maiale. Dio del cielo. Ora ti metti a frignare come un poppante. Sei un inutile frocetto che ora si è messo a piangere sulla mia batteria come una fottuta bambina di nove anni. Allora come va con l'orchestra? Bene, credo di andargli un po' più a genio. Ero lì per spingere le persone oltre le loro aspettative. Era quella la mia assoluta necessità. Voglio essere uno dei grandi. E per riuscirci avrò bisogno di molto tempo. Ecco perché non possiamo stare insieme. Avrei dovuto permettergli di gettare mio figlio in un incubo. Perché non vuoi che paghi per le sue colpe? Non esistono in qualsiasi lingua del mondo due parole più pericolose di bel lavoro. Per riuscirci avrò bisogno di una parte per il mondo a tutti i nostri conti. Per riuscirci avrò bisogno di moserire. Ecco perché non vuoi che paghi per Per riuscirci avrò bisogno di noi. Per riuscirci avrò bisogna trovere. Per riuscirci avrò bisogno di trovare la pizza. Per riuscirci avrò bisogno di ciò che può avere esistere. Grazie a tutti.